solitario. Allora possiamo confidare che oggi diciamo nel primo pomeriggio quando avete finito la live ci siamo scritti e ho detto guardate che da quello che mi risulta non ci sarà nessun annuncio oggi rispetto all'arrivo di Samarzic perché devono ancora vedere delle cose. Allora rispetto a questa cosa anche io ho detto speriamo che vada tutto bene che non ci siano grossi problemi e quindi ho anche mandato i miei messaggi perlustrativi per dire ma questo significa che c'è qualche problema c'è qualche cosa e nessuno mi rispondeva e allora io ho detto speriamo bene. Verso sera l'imbrunire dopo il tramonto mi è arrivato non c'è nessun problema semplicemente bisogna finire di mettere a posto alcune cose perché la fretta ce l'avete voi noi non abbiamo fretta e quindi adesso non so se sarà domani probabilmente sì o dopo domani o fra tre giorni ma Samarzi sarà un giocatore dell'Inter alleluia 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 alleluia